Ho fatto delle riprese qui dal mio terrazzo di Porto Vada Savona di cui le ho fatte a una nave che giornalmente la vedo arrivare, andare, venire, andare e venire su un mare sempre o agitato o mosso o addirittura sembra quasi una tavola per mangiare e sto giallo che vediamo con questa nave, giallo e bianco, si confonde bene con l'azzurro comunque sono riprese niente di particolare però sono belle da vedere grazie a tutti 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 grazie a tutti